Bene, ho cambiato stamattina al volo la mia presentazione, ho aggiunto inizialmente, prima di cominciare a parlare dei laboratori, due slide. Qui vedete sulla vostra sinistra la prima stringa di KM3Net, 700 metri di altezza, 18 DOM, che parte da Napoli, dal sito di integrazione ed è un lavoro di tutto l'INFN della sezione di Napoli che ha fortemente investito anche in termini di spazi. Vedete la stringa alla vostra destra l'altra notte, ieri mattina in realtà erano le 5 del mattino che comincia a scendere per andare a 3.500 metri e poi vedete la stringa ancora avvolta sull'OM che va quando è arrivata ieri a 3.500 metri e poi ieri sera, mentre noi eravamo a cena, l'accensione della stringa è stata aperta, tutti i 18 DOM sono perfettamente funzionanti, già partita l'acquisizione dati e in basso, e la foto più o meno delle 10.30 di ieri sera, la collaborazione europea, perché c'erano presenti anche gli olandesi, francesi e più riconoscerete sezioni di Genova, Napoli, Roma, Pisa, Bologna, laboratorio e sezione che sono lì a festeggiare per la partenza della stringa e quindi diciamo questo è il buon viatico. Allora, Laboratorio Nazionale del Sud fondati nel 1976, Presidente, l'anno prossimo ti tocca organizzare i 40 anni, Nando, l'anno prossimo facciamo i 40 anni dalla fondazione del laboratorio e quindi ti toccherà ritornare. Siamo 104 come permanente staff e se poi aggiungiamo tutte le altre varie forme di tempo determinato, assegnisti, postdoc e così via, arriviamo a circa 250 persone, circa 400 utenti esterni. Allora, il laboratorio era cresciuto, è cresciuto negli anni con un modello quasi naturale che nei primi 4 anni della mia direzione ho cercato di razionalizzare e che qui rapidamente riporto. È un modello che prevede per un laboratorio come la nostra, per un'infrastruttura di ricerca come la nostra in una regione della convergenza, da un lato tutte le partnership ovvie con le università e gli altri enti di ricerca, ma anche con aziende e soprattutto la possibilità di cercare di trarre quanto più vantaggio possibile dal fatto di essere in regione obiettivo 1 e quindi di poter utilizzare fondi regionali e fondi europei. Questa è una slide che abbiamo presentato alla Commissione Sabban, come è stata ridefinita, e che vi faccio vedere solo per dirvi che questo è più o meno quello che è il budget 2012, 2013 e 2014 che è venuto dal FOE inteso come il budget ordinario che viene dall'Istituto più quello che è stato il contributo delle commissioni scientifiche. Vi faccio notare che noi ogni anno spendiamo praticamente tutto, non abbiamo residui, tranne nel 2014 un residuo che è dovuto al fatto di un prolungamento della gara per la nuova cabina elettrica che è arrivata sul 2015. A quei quattrini dobbiamo aggiungere 2012, 2013 e 2014 quello che è stato il contributo che è venuto da altre fonti del FOE, SS e l'INP, il premiale astrofisico nucleare, INFNE e il premiale IRPT, più quelli che sono i quattrini che sono venuti dal PON KM3NET, dal PON RAISH, dal PON3 o dal PAC MSOMEDIT, ENSAR e da due FIRB che avevamo concluso nel 2012. Tutto questo per dire che il contributo ovviamente dell'INFN sta circa in qualcosa che oscilla fra i 6-7 milioni di euro, altri fondi sono altri 3 milioni di euro e fondi che vengono dall'Unione Europea stiamo all'incirca sui 25 milioni di euro. Quindi il laboratorio cerca di sfruttare al massimo tutte le possibilità esterne e tutto quello che possiamo fare, ottenere proprio dal fatto di trovarci in una regione come questa. In questo senso stiamo sviluppando una forte presenza e una forte interconnessione con la strategia regionale, a differenza del passato abbiamo deciso di entrare in tre nuovi distretti tecnologici siciliani, in particolare i tre distretti sono il distretto biomedico, il distretto del mare e il distretto dei beni culturali e questo lo facciamo con un rapporto molto forte con l'INGV, c'è il Presidente Professor Gresta qui presente, con il CNR e anche con un certo numero di piccole e medie imprese siciliane. Siamo nel distretto dei beni culturali non come INFN ma attraverso il consorzio Coiric che vi ricordo ha la sua sede in Sicilia presso i laboratori nazionali del Sud. Corrado che è appena entrato dal dottore Spinella si trova quindi diciamo davanti tutta la lista delle cose che facciamo anche in Sicilia assieme al CNR. Siamo presenti in Catania ricerche, ai soldi che vi ho detto prima si aggiungono circa 1 milione 820 milioni, 1 milione 8 che sono il finanziamento che abbiamo ottenuto da un porre energia con cui abbiamo riefficientato quest'anno tutto il laboratorio e proprio giorno 2 sono stato a Palermo, ho detto al Presidente, stiamo andando a definire uno specifico accordo fra BNFN, l'assessorato siciliano alle attività produttive e il 10 mi vedrò con l'assessore alla salute, l'onorevole Gucciardi e dovremmo chiuderne un altro specifico anche con l'oro. Il laboratorio per quelli che l'avete già visitato è qui riportato, il laboratorio nasce con un laboratorio di fisica nucleare quindi due acceleratori il Tandem e il ciclotrone superconduttore e dei grandi esperimenti oltre che delle linee generali devo citare ovviamente sia Magnex che Chimera e vi farò, capirete tra poco anche perché. Questi sono i nostri due acceleratori con le sorgenti, dal punto di vista delle sorgenti ioniche credo che ormai sia a livello internazionale, non certo a livello INFN era già da molti anni, riconosciuto la leadership nel campo delle sorgenti ioniche. Il Tandem, e mi riallaccio alla discussione di ieri, è fortemente impegnato oggi nel suo lavoro attorno all'astrofisica nucleare che ci ha permesso anche di avere un progetto premiale con cui abbiamo fatto un upgrading sia del Tandem che dei sistemi creogenici delle nostre sorgenti e questo dal punto di vista dell'astrofisica nucleare credo che sia in dubbio che il laboratorio attraverso il gruppo di Claudio Spitaleri con il metodo del Troia North ha ormai una posizione di leadership ben consolidata per quanto riguarda questo tipo di studi con acceleratori. Il circotrone, qui lo vedete, sapete tutti che il circotrone è nato alla sezione di Milano, gruppo del professore Resmini e in operazione ai nostri laboratori dal 1992, il primo esperimento fu fatto nel 1995. Questa è ormai la lista di tutti i fasci che abbiamo a disposizione, siamo praticamente al limite di quelle che sono le prestazioni di questa macchina, che abbiamo anche cercato di spingere in termini di intensità fino a 10 alla 12 particelle per secondo. Questa caratteristica di riuscire anche a cercare di salire molto con l'intensità e grazie al gruppo Magnex ci ha portato, guidato da Agodi e Cappuzzello, ci ha portato a far nascere, come è stato già citato ieri, fa parte dell'iniziativa di What Next, la possibilità di andare a studiare il decadimento doppio beta ai laboratori nazionali del Sud, perché l'accoppiata ciclotrone con opportuno upgrading più Magnex è una facilità unica a livello internazionale per cercare di andare a capire se si possono fare delle misure che potrebbero portarci alla determinazione dell'elemento di matrice nucleare che è tanto importante in questo settore. È chiaro, come dice il professore Iachello, towards the measurement significa che abbiamo delle chance, ma certamente non è qualcosa che abbiamo esattamente nelle mani. Questo però ci necessita di fare dei major upgrading della nostra facility, soprattutto per quanto riguarda il ciclotrone. Major upgrading e Guardo Variola, che è il nuovo Presidente del MAC, sa perfettamente che sono legati a questo programma di fisica, ma non solo a questo, vi farò vedere delle altre cose, ma sono anche legati al fatto che la macchina è comunque una macchina con una tecnologia degli anni 80, questo è il magnete con cui è nata la grande tradizione della superconduttività in Italia con la Zanon, con l'Ansaldo, con la metalli, che allora si chiamava metalli preziosi, oggi metalli industriali e così via. Quindi abbiamo bisogno di fare un upgrading della macchina, ma anche di fare qualcosa di nuovo che permetta di avere una prospettiva oltre questa decade, perché deve essere a tutti chiaro che in queste condizioni immaginare un ruolo del ciclotrone oltre questa decade è certamente qualcosa che è difficile da poter immaginare. Per fare un reale upgrading della macchina e migliorare soprattutto in termini di intensità, dobbiamo cambiare l'elemento, se volete, che è il più vecchio e anche il più critico per certi punti di vista, che è il nostro criostato. Se vogliamo aumentare l'intensità dobbiamo aggiungere l'attuale sistema di estrazione per deflettore e un sistema di estrazione per stripping, dobbiamo ridisegnare, rifare un nuovo criostato con un'ulteriore porta di uscita per l'estrazione, per stripping, col doppio vantaggio di dare la prospettiva alla macchina oltre il 2020 e di poter mettersi nel panorama internazionale come una delle poche macchine oggi a livello mondiale che potrebbero essere disponibili per fare fasci di ioni ad energie intermedie ad intensità o se volete a potenza che possono arrivare fino all'ordine di 5 kW. Queste sono le specie ioniche e le intensità attese che vanno ben oltre quello che è necessario per Magnex e quindi per l'esperimento Numen. Il programma di upgrading della macchina è stato presentato al MAC lo scorso novembre, abbiamo una precisa schedula dei costi, circa 10 milioni di euro, di cui 4 milioni dal TDR è il nuovo criostato. Su questo l'istituto dovrà prendere una decisione nel 2016, perché per fare il criostato ci vogliono tre anni. Quindi tenete conto che nel momento in cui noi partiamo con la gara per il criostato, circa 4 milioni di euro, lo vedremo tre anni dopo. Per cui se vogliamo fare questa operazione e arrivare in tempo e prendere la finestra di opportunità per la fisica lo dobbiamo fare l'anno prossimo. Questi sono i tempi che sono stati dati al MAC. L'1 e il 2 di dicembre c'è stato il primo workshop Numen di grande successo, ma non è solo Numen che può trarre vantaggio da questo, c'è tutto un ampio panorama di altra fisica che possiamo fare con l'accoppiata Fribs più Chimera. 14 e 15 Angelo Pagano ci sta organizzando ai laboratori del Sud altri due giorni in cui più gruppi europei si troveranno assieme per fare un po' il punto della situazione, scrivere alla fine delle lettere di intenti per una serie di esperimenti di punta che possono essere fatti in Europa con la nostra linea di fasce radioattivi per la produzione online, cioè Fribs e con il rivelatore Chimera. I risultati di questo saranno dati ovviamente dal Presidente della Giunta e a Mauro D'Aiudi, Presidente della Commissione Terza, che so che è in aula qui, ma eccolo là. Questi sono quanto già abbiamo fatto con Chimera e con Fribs, ovviamente Magnex anche esso su casi di fisica diversi può trarre vantaggi. Questa sarebbe una facilità unica. KM3Net. Diciamo che Antonio mi ha preceduto per quanto riguarda l'inquadramento europeo, sapete che KM3Net era già nella S-Free List e fra quelli che sono rimasti. Speriamo di avere la conferma il mese prossimo, cioè scusate, settimana prossima dell'inserimento di KM3Net 2.0 che contiene sia il programma di fisica dei neutrini di alta energia a Portopalo, sia il programma di fisica per lo studio dell'oscillazione di neutrino con Orca in Francia, entrerà nella lista, dovrebbe entrare, noi ci auguriamo, nella nuova lista S-Free. Stiamo facendo degli accordi con Hyper-K e un memorandum understanding che l'RRB e Antonio Masiero hanno approvato settimana scorsa e un po' di settimane fa nell'ultima riunione dell'RRB a Roma. La storia di KM3Net ovviamente è partita dal fatto di avere due infrastrutture, la prima al porto di Catania che è stata una struttura di teste per noi ma che oggi è la struttura a 2.100 metri su cui nel più grande laboratorio naturale che è l'Etna è in una posizione ideale dal punto di vista del geofisico e vulcanologico, l'Ingv potrà avere e potrà dare tutti i dati che servono per studiare diciamo dal punto di vista geofisico e vulcanologico questa struttura, avete sentito ieri anche dal rettore l'interesse dell'università e come stiamo mettendo dal sistema INFN, INGv e università questa infrastruttura. E poi c'è quella di Capopassero, tutte e due strutture inserite in GARX collegate a un gigabit al secondo e che sono parte di questo anello del GAR che gira per tutta la Sicilia che può essere un'occasione se la Sicilia la vorrà sfruttare per andare incontro a quello che diceva Antonio anche in termini di possibilità di servizi. In tutto questo RECAS attraverso la sezione di Catania rappresenta un punto nodale fondamentale per cui diciamo che è vero che abbiamo in qualche modo fatto un reverse dal punto di vista digitale di quella che è la struttura anche se però lo devo dire ahimè con grande rammarico in regione siciliana si parla di banda larga e così via e non sanno e non riescono nemmeno a rendersi conto di quello che già c'è. Però purtroppo il gatto pardo è sempre dentro di noi. Il prototipo della torre è stato in funzione per più di un anno, il diploma è stato fatto nel marzo del 2013, questo ci ha permesso di dare galileana dimostrazione di quelle che sono le caratteristiche dell'acqua che abbiamo a Portopalo a 80 km a largo nel Marionio, queste sono le caratteristiche ottiche misurate in più di un anno che sono assolutamente migliori di quelle ovviamente di Tolone. Qui avete anche il background su un anno e il confronto tra quello che è Antares e quello che stiamo facendo a Portopalo. Sapete tutti che Antares per 3 o 4 mesi in primavera si deve fermare perché la bioiminescenza è tale per cui il rumore di fondo sale e quindi non è possibile far funzionare Antares, mentre noi siamo almeno un ordine di grandezza più bassi e per cui siamo sicuri di poter lavorare 12 mesi l'anno. Il dimostratore della stringa fu installato l'anno scorso, ha funzionato anch'esso con successo per un anno e adesso ormai il nostro interesse è totalmente spostato sulle torri e sulle stringhe nella loro visione finale. Questo è tutto il sito che è stato con una griglia di un metro circa verificato in varie operazioni marine, soprattutto nell'ultimo anno. Questa è l'infrastruttura che si sta realizzando, quello che vedete con quelle linee sono la parte delle 8 torri, delle 24 stringhe già finanziate, quindi già in fase di realizzazione, gli altri puntini che vedete è tutto il resto che dobbiamo andare a coprire con i successivi finanziamenti che dobbiamo avere, che cercheremo di avere attraverso i fondi infrastrutturali. Quando sono arrivato uno dei problemi che avevamo erano sicuramente, e uno dei dubbi più grossi erano le operazioni marine, oggi, cioè come fare le operazioni marine, abbiamo fatto delle scelte in termini di persone scelte all'interno dell'INFN, di partner commerciali come Fugro, oggi lavoriamo a queste profondità senza nessun tipo di problema. Vi do solamente un numero, la nave è partita l'1 dicembre alle 18, il 2 dicembre è arrivata sul sito del mattino di installazione, durante la mattina abbiamo completato, abbiamo messo giù praticamente tutti i cavi che poi serviranno per attaccare, finire di attaccare tutti i futuri stringhe e torri, dopodiché è stato fatto il deployment della stringa, il survey, tutto quindi già sta tornando indietro, in 48 ore abbiamo fatto un lavoro che in altri contesti, in altre situazioni ci vorrebbero veramente settimane, torna indietro Klaus Lesmuller, Marco Circella di Bari, Nunzio Randazzo dalla sezione di Catania e Giorgio Riccobene dei laboratori, in 48 ore hanno fatto tutto quello che dovevano fare, oggi pomeriggio alle 4 sono a Malta, mi avevano chiamato prima, alle 6 chiameremo l'off delle operazioni marine, quindi diciamo con tre giorni di nave abbiamo fatto un lavoro che prima era veramente impensabile. Questo è quello che a noi ci serve sia per la fisica sia in termini di quattrini. La prospettiva è ormai abbastanza chiara, il telescopio per neutrini di altissima energia si fa a Portopalo, Orca si farà in Francia, tutto il resto, ogni altra discussione è finita, ormai la collaborazione è stabile e quindi da questo punto di vista non c'è più nessun tipo di problema. Come dico, finalmente la collaborazione è diventata un'organizzazione stabile, l'INFN ha fatto tanto perché questo avvenisse, devo ringraziare oltre al Presidente della Giunta in particolare Antonio Masiero che si è fatto carico di un lavoro di diplomazia politica non indifferente. Quello che si vuole fare anche dal punto di vista della fisica contenuto nella nuova in KM3NET 2.0 dal punto di vista della parte del telescopio per neutrini di alta energia anche qui è ormai ben chiaro, è contenuto in questa lettera, diciamo in questa parte di fisica ben descritta e che l'RRB ha approvato sia per Orca che per Arca. Questa ovviamente non è solamente la fisica per studiare, la nostra fisica, la fisica astroparticellare ma è la fisica che vogliamo andare a fare o la scienza che vogliamo andare a fare mettendo assieme KM3NET ed Enso con l'Ingv in primis e con il CNR. Vi ricordo che la Regione Siciliana ha dato con la più alta priorità un'infrastruttura di ricerca distribuita sul mare che vede tutti i laboratori INFN, INGV e CNR messi a sistema presenti in Sicilia, Catania, Portopalo, Capogranito, la Roosevelt a Palermo e Messina e questa è una proposta fatta di INFN, CNR, INGV, Università di Catania e quella con il più alto ranking per la Regione Siciliana, sappiamo che è stata inserita nel nuovo programma nazionale delle infrastrutture di ricerca, quindi da questo punto di vista è vincente la collaborazione fra gli enti. Vado alla conclusione, a parte queste due grandi iniziative, continua l'attività di prototerapia ai laboratori nazionali del Sud, ormai questa è una slide un po' più vecchia dal punto di vista del numero di pazienti trattati, siamo già arrivati a quasi 400 pazienti che sono stati trattati e controllo locale 95%, sopravvivenza a 5 anni per quelli ovviamente per i casi fatti a 5 anni fa, è del 98%. Lavoriamo dal 2002 con l'Università e con l'Azienda ospedaliera Policlinico e quindi anche qui la scelta dell'Istituto di mettere i laboratori nazionali del Sud all'interno della città universitaria si è dimostrata nella storia vincente. Col CNR, in particolare con l'Ibam, abbiamo da molti anni assieme questo laboratorio che si chiama Landis e che fa parte all'interno dei laboratori nazionali del Sud e che sta dentro la rete Hyperion e quindi anche da questo punto di vista abbiamo messo a sistema con Hyperion quello che già avevamo ben prima di Hyperion e ben prima di tanti altri. Abbiamo fatto una scelta strategica che è quella di partecipare alle grandi iniziative europee e per questo siamo, il laboratorio è in SS assieme ai laboratori di Legnaro e assieme alla sezione di Milano, in particolare nei laboratori stiamo facendo la parte della sorgente e della LEPT, mentre invece Legnaro farà la parte del DTL e ovviamente Milano fa invece la parte delle cavità ad alto beta. Siamo dentro Elai sul pillar di Praga, in particolare sulla parte del BIMLINE, la storia è una storia che comincia nel 2011, abbiamo fatto una serie di accordi preliminari e tutto si concretizza a fine del 2014 quando firmiamo un contratto, vinciamo una gara per 2 milioni e 200 mila euro per realizzare la sala di pretrattamento clinico a Praga. Questo è qualcosa che ci porta a coprire tre anni fino al 2017. In conclusione, io credo che i laboratori hanno un ben definito programma di scienza basato su tre pilastri, la fisica nucleare, gli acceleratori, KM3NET e la fisica applicata che è sempre stato un punto di forza nei nostri laboratori. Stiamo cercando, dal primo di gennaio abbiamo tre nuovi capi di visione perché ritengo che come cambiano i direttori devono anche cambiare i capi di visione, non è possibile che ci siano capi di visione nei laboratori nazionali che durano o che siano lì per più di due o tre direttori, è una cosa che non può funzionare. Quindi dal primo di gennaio abbiamo tre nuovi capi di visione, tecnica, ricerca e acceleratori e stiamo cercando di cambiare il modello di governance e il modello di management all'interno del laboratorio. Noi non abbiamo un sistema di controllo di qualità ma il programma del mio secondo mandato di direzione è di realizzare all'interno dei laboratori un sistema di qualità, implementare un sistema di qualità partendo dai servizi amministrativi e poi andando sui servizi tecnici e infine sicuramente su quello acceleratori che è un attimino quello più complesso. Sul personale ovviamente mi unisco al coro di tutti i direttori con tutti i costretti dal contorno di cosa abbiamo di bisogno sappiamo le difficoltà e comunque ringraziamo sempre l'istituto per l'attenzione che pone verso i laboratori nazionali del sud. Grazie.